Il 27 ottobre, a Roma, il campione di box Michael Lone Wolf, Magnesi, affronterà la sfida mondiale contro il colombiano Nike La Promesa Theron. Magnesi, noto anche come il lupo solitario, difenderà la sua cintura Silver WBC dei pesi superpiuma, ottenuta dopo aver sconfitto l'argentino Ayrton Gimenez lo scorso 31 marzo. Il pugile laziale, con un record di 22 vittorie e una sconfitta, si impegnerà a mantenere il titolo. Il ventotenne Magnesi si trova attualmente in nona posizione nel ranking WBC. La sua moglie e promoter, Alessandra Branco, afferma che una vittoria contro Theron potrebbe consentirgli di entrare nella top 5 e, successivamente, aspirare alla cintura gold della stessa federazione. Attualmente, il titolo gold è detenuto dallo statunitense Oshaki Foster. Theron, un pugile colombiano di 26 anni originario di Barranquilla, ha dimostrato di essere un avversario solido e imbattuto con un pugno pesante. Questo rende il loro incontro promettente, soprattutto data la propensione di entrambi a scambiarsi colpi a corta distanza. La preparazione di Magnesi è guidata dal maestro Gesumino Aglioti e supervisionata dal pluricampione del mondo Silvio Branco. Dopo una breve pausa durante la settimana di ferragosto, Magnesi riprenderà gli allenamenti per affrontare Theron con determinazione. L'evento del 27 ottobre a Roma sarà impreziosito da una copertura televisiva internazionale. Questa sarà un'opportunità per vedere Michael Lone Wolf Magnesi in azione su uno schermo mondiale. Ulteriori dettagli sulla location dell'evento e sulla copertura televisiva saranno comunicati a breve. La serata offrirà anche uno sottoclou di incontri con altri pugili del Magnesi Boxing Team. I biglietti saranno presto disponibili online sulla piattaforma Boxall.ite.alessandrabranco, promotrice dell'evento, ringrazia la Federazione Pugilistica Italiana, il World Boxing Council e GLE Sponsor che hanno reso possibile questa occasione.